Ciao a tutti, oggi prepareremo la granita di limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 5 minuti. Gli ingredienti sono limoni, zucchero e ghiaccio. I quanti arrivi e gli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it Diamo il via alla ricetta. Iniziamo a polverizzare lo zucchero. Mettiamo lo zucchero all'interno del boccale. Lo polverizziamo per 10 secondi a velocità 10. Aggiungiamo i limoni. E frulliamo per 10 secondi a velocità 10. Adesso aggiungiamo il ghiaccio. E azioniamo i bimbi per un minuto. A velocità 10. Spadolando. La nostra granita è pronta. Andiamo a versarla nei bicchieri. Granita al limone. Grazie e alla prossima ricetta.